Ma più che altro vuole dare un messaggio fortissimo che è quello che non crede che le donne siano in grado di decidere sulla propria vita anche in passaggi così fondamentali, così dolorosi e impegnativi come quello di abortire. Si torna indietro di qualche secolo, si vuole mettere le donne sotto tutela, che ci sia qualcuno a suggerirgli tutte le implicazioni delle loro scelte, a cercare di fargli cambiare idea. Addirittura ricordiamo Fratelli d'Italia propone che prima di abortire si sia costretti ad ascoltare il battito del cuore del feto, cose di una violenza inaudita tipica di società molto maschiliste e molto poco libertarie.